Ci stiamo preparando per una nuovissima puntata di Goal DJ alle ore 19 su Sky Sport Football e alle ore 20.30 su Sky Sport 1 Come ci saranno due ottiti di eccezione, due piloti di MotoGP, Luca Marini e Marco Bezzecchi Ciao ragazzi, diciamo il vostro team, Muni VR46 Bravissimo Avemo un sacco di cose di cui parlare, mi dovete spiegare anche le moto, le funzioni, come vi preparate, siete in partenza per la Malesia C'è stato, insomma avete avuto anche un periodo di vacanza, vi siete riposati e resto carichi per ripartire Si riparte? Si riparte sempre un po' E allora noi ripartiamo con una nuova puntata di Goal DJ